Dimmi Valentina Allora io non ho nessuna colpa a Mattia ma la colpa c'è nel tutto la da lei Perché è una persona insicura, è una persona che non sa quello che vuole Perché nella vita normale non pensi che esce per le quattro esterne con due ragazzi diversi e non sei ancora quello che vuoi Ascolta io non ho detto che non so quello che voglio Quando io sono andata via ti ho detto che nella settimana sono stata contenta della scelta, di aver preso una scelta Ero felice di venire oggi per Paolo Ieri quando ho visto Mattia ti ho detto, ho stato semplicemente dicendo che... Sì ma sei una persona insicura, io non so, cioè Mattia che vuole una donna di carattere Non può farti piacere lei Non posso nascondere a me stessa che ieri sera mi ha fatto piacere Sì ma non è normale, non è la persona normale come me No è normale Perché ho sempre detto che mi è piaciuto perché non è normale Che cosa non è normale La persona che vuoi vedere, che vuoi avere qualcosa Che c'è di colore, intervenire Io non c'entro niente Non ho capito, tu adesso torni a corteggiarti No, no, non so, no, non è così Applausi Applausi No, dico, non ho capito il tuo ragionamento però Allora, non c'è un fine a questo ragionamento Sto semplicemente dicendo che No, sto semplicemente dicendo che io sono contenta e sono ancora convinta di avere una preferenza per Paolo Ma quando ho visto Mattia Ti sei emozionata Grazie a tutti Grazie a tutti.